Il Movimento 5 Stelle a quarto non esiste più, caso chiuso, anzi no, non è bastata l'espulsione di massa dei consiglieri comunali e del sindaco Grillino a riportare il sereno in casa 5 Stelle. I sospetti che hanno travolto la giunta della cittadina alle porte di Napoli si sono tradotti immediatamente in una perdita di fiducia, stando ai sondaggi, nei confronti del Movimento. Non accettiamo l'attacco diffamatorio che stiamo subendo dal Partito Democratico, che nasce proprio nei giorni successivi a quando, secondo il sondaggio Piepoli, il sottoscritto aveva superato Matteo Renzi. Su quarto si sta montando un caso per diffamare me e Di Maio, insiste Roberto Fico, mentre l'altro membro del direttorio, Alessandro Di Battista, attacca. Di fronte all'ipotesi di infiltrazioni malavitose, noi abbiamo espulso subito tutti. Il PD invece si tiene i suoi 84 indagati e condannati per fatti gravissimi. Già il PD è sul primato di Paladini della legalità che si sta consumando lo scontro più duro tra Movimento e Partito Democratico. Sul blog Grillo Tuona il PD è il partito preferito dalla Camorra, mentre oggi i grillini si sono dati appuntamento a Brenta per un sit-in davanti al comune, il cui sindaco Demma è finito agli arresti domiciliari. Controffensiva necessaria per recuperare il consenso tra i propri elettori, che a stragrande maggioranza hanno bocciato la linea del direttorio sul caso quarto. Caso affatto chiuso, su cui pesa la mannaia giudiziaria, che ha portato ad indagare per falso anche il marito del sindaco Rosa Capozzo. E su cui pesano soprattutto le parole dell'ultimura di Alessandro Nicolaes, consigliere grillino di missionario. Non so con certezza se i vertici romani sapessero, ma so per certo di incontri a casa di Roberto Fico con il sindaco Capozzo.